Il giornale, Fini ha paura, Sallusti titola Il giorno della verità, i suoi gli sfuggono. Fini, lui cerca di evitare la sconfitta trasformando la presidenza della Camera in un mercato lanciando l'ultima proposta indecente che Berlusconi respinge, contiamoci dice, segue l'editoriale appunto del direttore del giornale. Dal giornale al tempo, il titolo è La sfiducia smascherata, l'articolo che riguarda Fini ha per titolo La caricatura di un politico. Questo invece è l'apertura, il titolone appunto La sfiducia mascherata perché i Finiani dimettiti poi trattiamo ma Berlusconi non a bocca, propone un patto ai moderati, le mosse del Premier alla vigilia del voto con i vari titoli, nei palazzi si fanno i conti, le parole magiche, intanto Silvio guarda al futuro. La porcata finale, questo è il titolo di Libero. Oggi il duello decisivo con Berlusconi alla Camera in svantaggio, Fini, le ultimiste.